Cinque anni fa Dove.it ha iniziato a trasformare il mondo delle agenzie immobiliari in Italia. Siamo partiti con una visione chiara, rendere più semplice e trasparente il processo di compravendita immobiliare. Possiamo ora dire con forza che il nostro modello funziona. Nel 2021 ci avete conosciuto su Mama Crowd e oggi siamo orgogliosi di dirvi che abbiamo mantenuto le nostre promesse. Negli ultimi due anni abbiamo raddoppiato il valore aziendale e più che triplicato i nostri ricavi, superando i 100 milioni di euro di transato e avvicinandoci ai 5 milioni di commissioni nette. Abbiamo raggiunto questi risultati abbinando l'efficienza del digitale alla competenza dei migliori agenti immobiliari, fornendogli software avanzati e introducendo un nuovo metodo di vendita a zero commissioni per il proprietario. Unisciti a noi in questa nuova fase di crescita. Investi in dove.it. Insieme trasformeremo il settore delle agenzie immobiliari.